Il 22 novembre tornerà nelle sale il ladro più amato di tutti i tempi, colui che ruba i ricchi per dare ai poveri, Robin Hood, con la pellicola L'origine della leggenda, con protagonisti Taron Egerton e Jamie Foxx. Per celebrare l'imminente uscita del nuovo film, Zero One Distribution ha organizzato un evento davvero eccezionale a Lucca Comics & Games, con partner ufficiali Lega Nerd e Movieplayer.it. La sera del 31 ottobre al baluardo San Pietro, un arciere ha scoccato una freccia infuocata su una parete delle storiche mura della città toscana, su cui è poi apparsa una suggestiva animazione a tema Robin Hood. Se siete a Lucca non perdetevi questo spettacolo che si ripeterà ogni sera fino al 4 di novembre, sempre presso la postazione del baluardo di San Pietro. Al prossimo episodio